Il caso mare inquinato a Pescara finisce sul tavolo della procura all'interno di un esposto presentato dal portavoce provinciale di Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale Armando Foschi. L'obiettivo della denuncia è attivare ogni forma di tutela al fine di prevenire e reprimere comportamenti forieri di inquinamento che possano nuocere alla salute dei cittadini. L'esposto, oltre che alla procura della Repubblica di Pescara, è stato inviato per conoscenza anche al prefetto adriatico Vincenzo D'Antuono. Intanto è montata la polemica politica a seguito della denuncia di alcuni cittadini che hanno riscontrato dermatiti e gastrointeriti dopo aver fatto il bagno nel mare pescarese e soprattutto dopo che lo scorso 28 luglio si è rotta una condotta fognaria in via Raiale, costringendo l'ACA a immettere nel fiume 350 litri di Oxistrong, un acido disinfettante. Ieri, al nostro microfono, il sindaco di Pescara, Marco Alessandrini, ha provato a gettare acqua sul fuoco minimizzando quanto accaduto e tranquillizzando sulle analisi dell'arta tornate nella norma già il primo di agosto. Ma dall'opposizione continua a levarsi la voce di chi chiede chiarezza. Guerino Testa, consigliere comunale del nuovo centrodestra, vuole che il primo cittadino faccia luce sulle reali condizioni del mare pescarese. Io ritengo che il sindaco in qualità di massima autorità sanitaria locale doveva e siccome non ha fatto dovrà in tempi brevissimi uscire lo scoperto, uscire dal suo mutismo imbarazzante che spesso lo contraddistingue in tante vicende locali che riguardano il comune di Pescara e dire come stanno le cose realmente. Se c'è un problema mare inquinato sì, mare inquinato no, lui ha rapporti con l'arta, con l'aca, con l'asl e quindi dovrebbe dire la verità.